Siamo arrivati, andiamo nella prima... Oh, come si tratta da fare? Mi sono arrangato sempre io, purtroppo, e mi è ingollato. Quando vuoi melone e cogomero non ne siete interessati, posso anche spruirlo dopo. Adesso scoprimo il prosciutto. È benissimo la cortella. è ottima la cortella fermi non vi muovete per questo forse è meglio c'è un po' di goccia il sapore di guaranà è quello che gli fa ma lei mangia il prosciutto col pane vedo però è il secondo le ferite che tocca da fare facciamo questo gemellaggio il gemellaggio del prosciutto che riprese madonna cara adesso questa è la parte più bella questa è la meglio era meglio eh come se fatica così quindi era questa integratori questi sono integratori questo è buono eccolo Giammani ma cosa ho visto Giammani ma va rilento mi fanno baricà oggi oh già ma c'è forse c'avamo la stessa buongiorno buongiorno grazie hai preso il pezzo che ho visto questo è un po' di acqua c'è peggio un po' di cose ma non devi guardare molto giustino eh ma che ne sanno quelli che vanno in bicicletta ma che ne sanno ma che ne sanno adesso se ce ne va uno facciamo fare anche quando la giriamo ahhh le po' metà cottura, quasi ci siamo eh, quasi ci siamo e là vai buttata questa là pronti ok sono un po' duri però e queste si, questi si che è un bel vedere eh andy dio qua che un zio ha rimbacciato guardali E' una girata, bene. E' un bel punto. 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 E' un bel punto.